Ok, intanto grazie a tutti per la vostra presenza, questo sarà un aggiornamento su quello che è lo stato del disegno della Calibration Unit di Mauri, un lavoro a cui oltre me partecipano Mauro Dolci, Vanni Antonio, Angelo Valentini, Amico di Cianno e speriamo di coinvolgere presto Elisa Portaluri che dalla prossima settimana si unirà al gruppo che si occupa di ottica adattiva. Allora, velocemente un sommario di quello che vedremo, un breve riepilogo sui principi di ottica adattiva, in particolare sui sistemi importi coniugati, dopodiché un overview di quello che sarà il sistema Mikado-Mauri, due strumenti previsti per la prima luce DLT, diciamo P-Stick per come saranno sulla piattaforma NASMIT del telescopio e dopodiché vi mostrerò lo stato attuale del disegno optomeccanico della Calibration Unit, alcune possibili opzioni per il disegno delle maschere, per le sorgenti laser e le sorgenti naturali che la Calibration Unit si deve fornire, una veloce panoramica sull'elettronica di controllo e poi quelli che saranno i prossimi, che sarà il prossimo lavoro in vista della preliminare design review con inizio che si terrà tra gennaio e febbraio del prossimo anno. Ok, abbiamo già visto qualcosa la scorsa settimana con Mauro, questa immagine solo per farvi vedere che negli ultimi anni le tecniche relative all'ottica attiva sono in qualche modo esplose, ne esiste una grande varietà e se si differenziano soprattutto per l'uso di stelle naturali o stelle laser o combinazioni di queste e si distinguono anche per la dimensione del campo corretto. L'altra volta Mauro ci ha parlato di Eris che è sostanzialmente un sistema scavo che può usare o soltanto una stella naturale o una stella naturale in combinazione con una stella laser, quindi per una correzione in un campo, un'alta correzione in un campo piuttosto ridotto, mentre poi per Mauro invece parleremo di un sistema multiconiugato dove si ottengono performance di fraction limit su un campo più ampio, tipicamente un campo che può andare tra 1 e 2 arcominuti, e poi esistono delle tecniche chiamate ground layer dati di optics che non permettono l'aggiungimento di performance di fraction limit, sono sostanzialmente dei sing and answer, però permettono di ampliare e di avere un campo corretto fino a 7-8 arcominuti. alcuni esempi sono Argos LBT, che utilizza dei laser ad effetto relay, e Galaxy ad esempio LBT. Brevemente, gli aspetti principali dei sistemi singoli coniugati li abbiamo già visti la settimana scorsa, comunque una delle principali limitazioni è la dimensione dell'angolo isoplanatico, cioè l'angolo all'interno del quale la correzione interattiva è veramente efficace. Quando osserviamo un oggetto scientifico fuori asse, la porzione di atmosfera che viene attraversata dal beam non corrisponde esattamente a quella che viene vista dal sensore del sistema adattivo, per cui le correzioni non sono ottimali e rimangono delle aberrazioni. Abbiamo detto infatti che in banda V abbiamo un angolo isoplanatico tipico di 2-3 arcosicondi, mentre cresce fino a 20-30 arcosicondi in banda K per condizioni standard nei siti ottimali. Quello che si ottiene quindi nelle immagini è sostanzialmente un effetto di questo tipo, vediamo nell'immagine a sinistra l'ingrandimento del campo centrale, dove è presente la stella di riferimento, la correzione è molto buona, mentre spostandoci fuori asse vedete che rimangono delle aberrazioni importanti, le stelle sono particolarmente elongate. Un altro problema dell'uso delle stelle naturali è lo sky cover, non è sempre possibile avere una stella naturale esattamente nelle vicinanze entro l'angolo isoplanatico, nelle vicinanze di un target scientifico. Quindi utilizzando delle stelle laser è possibile avere una stella artificiale da utilizzare come reference. Questo ha delle limitazioni, in particolare il coneffect, cioè il fatto che comunque data la limitazione in altezza della stella laser con tutta la turbolenza atmosferica viene correttamente campionata. Abbiamo aberrazioni di bassi ordini presenti nel sensing del laser, perché lo strato risonante di stato atmosferico comunque varia in altezza, in dimensione e in densità. E poi abbiamo un indeterminazione del tip tilt reale atmosferico, perché il beam laser è proiettato in cielo attraverso due volte l'atmosfera e quindi vengono cancellate le informazioni necessarie alla correzione del reale tip tilt. Per aumentare lo sky cover si può utilizzare come in Eris, come abbiamo visto la scorsa settimana, una combinazione di stella laser per correggere alti ordini e altre frequenze spaziali e temporali, e unitamente una stella naturale per correggere i bassi e i medi ordini. Questi sono sistemi molto più complessi, però garantiscono delle performance abbastanza buone, soprattutto costanti in uno sky cover molto più ampio. Passiamo quindi ai sistemi multiconiugati. Diciamo che l'ottica dattiva nasce, i primi articoli nascono intorno agli anni 50-60. Per la prima idea, per un sistema multiconiugato, bisogna aspettare gli anni 80, dove Pegues per primo ha proposto l'uso di stelle sia naturali che laser per risolvere il problema dell'anisopravismo, quindi aumentare la dimensione del campo corretto e superare il problema dello sky cover. Questo utilizzando quindi più stelle, più sensori di fronte d'onda e più deformabili contemporaneamente. Ogni deformabile deve essere coniugato a un particolare strato di turbolenza atmosferica e almeno uno di questi deve essere coniugato allo strato più basso, al cosiddetto ground layer, dove si trova la maggior parte della turbolenza atmosferica. Pochi anni dopo sono usciti i primi articoli che proponevano dei metodi matematici per quella che viene chiamata ricostruzione tomografica, ossia la mappa tridimensionale delle aberrazioni lungo tutta la colonna atmosferica. In un sistema molto... ne esistono anche qui diversi tipi, però diciamo in un sistema classico chiamato star oriented, la correzione viene ottimizzata in direzione delle stelle di riferimento, per cui anche considerando il campo corretto non è esattamente omogenea in tutto il campo. Questo dà luogo a dei problemi di costruzione della PSF e di distorsione di campo, che sono oggetto ad esempio per Maori del lavoro dell'instrument science work package in cui lavorano anche Michele e Lisa. Per quanto riguarda invece la complessità del controllo real time, questa cresce rapidamente aumentando il numero di attuatori dei formabili per minimizzare quello che si chiama il fitting error, il numero dei formabili stessi, il numero del riferimento e il numero di sottoperture per campionare la littero fronte dobbia. Attualmente l'unico sistema MCAO funzionante è il GEMS al Gemini South. Utilizza 5 stelle laser, 3 stelle naturali, 2 deformabili ed è attivo dal 2011, sebbene abbia avuto delle difficoltà, non lavora secondo le performance attese, però comunque è un sistema, è l'unico che stiamo funzionando. Il primo in assoluto è stato invece un dimostratore costruito nel 2007, operato soltanto per qualche settimana, MED, con una forte partecipazione italiana, soprattutto padovana, anche qui il gruppo di ragazzoni, e ha dimostrato la validità delle tecniche, per la prima volta la validità delle tecniche multiconiugate, tanto che ad oggi è spesso nominato a dimostrazione della validità dei sistemi MCAO. Ok, adesso dopo questo piccolo, diciamo, escursus, vediamo un attimo il progetto Maori. Qui ho messo un'immagine, vedete ci sono i 8 lanciatori laser, attualmente la Bayesian è per 6 lanciatori laser, ma diciamo è in discussione la possibilità di averne effettivamente 8, mentre nelle immagini a destra vi ho messo una rappresentazione di LT, dove sulla piattaforma NASMIT è collocata un'intera unità BLT, giusto per rendervi conto delle dimensioni, ma conoscete già di cosa si tratta. Maori è un progetto capeggiato dall'INAF, dove è l'istituto lidere Bologna, a cui partecipa poi il nostro istituto, Arcetri, di Prera, di Monte e Padova. L'IPAG di Grenoble si occupa dello sviluppo del sistema dei sensori laser, mentre da circa un anno è entrato nel consorzio, è entrata all'Università di Galway con un gruppo che si occupa della test unit, un'unità che poi vedremo avrà a che fare principalmente con la calibration unit. La prima luce di Maori è prevista insieme a Mikado all'incirca nel 2025, speriamo. Mikado sapete è una collaborazione tra istituti Max Planck tedeschi, Università di Monaco, sono alcuni istituti francesi e l'INAF. È sostanzialmente un imager tra 1 e 2.5 micron, ha un campo che sfrutta la correzione di Maori multiconiugata di 50 per 50 alcosecondi, con una pixel size 4.5, ma ha anche una modalità a scao, un campo più ridotto, una pixel size più piccola. Anche delle capacità spettroscopiche e comunque il goal che Maori insieme a Mikado dovranno raggiungere è quella di fornire uno stress ratio in K dell'ordine del 50 per cento con uno sky coverage anch'esso dell'ordine del 50 per cento tutto il cielo. Altri requisiti abbastanza stringenti sono quelli sulla accuracy astrometrica, Maori dovrà permettere di ricavare le posizioni degli oggetti in cielo, stelle in cielo, con un goal di 10 microalcosecondi e in un arco temporale che va da un'ora ai 5 anni per la riproducibilità. Similmente per l'accuratezza fotometrica il goal è di un centesimo di magnitudine per la riproducibilità sull'intero campo di vista con un time scale che va da un'ora a 5 anni. Per fare questo Maori dovrà utilizzare numerosi sensori e numerosi attuatori. I sensori sono costituiti da 6 sensori laser, poi abbiamo 3 sensori ad alta frequenza in banda H a stella naturale, questi vengono sviluppati da Arcetri insieme ad altri 3 sensori in banda visibile, mentre i 6 sensori laser sono quelli che sono a carico dell'IPA di Grenoble. Inoltre Maori utilizzerà poi per la correzione il M4, il grande deformabile da 1308 odori di tecnologia italiana di LT, lo specchio di tipo Tilt M5, sempre del telescopio, e poi due deformabili interni della classe di un metro con un alto numero di attuatori. Infine ci sono una serie di specchi ad uso dei sensori laser per il posizionamento della stella di riferimento sugli stessi sensori. Per quanto riguarda quello che è il campo visto e utilizzato da Maori, questo si estende fino a 160 arcosecondi intorno all'asse di osservazione. Al centro abbiamo il campo di Mikado, 50 a 50 arcosecondi, intorno al quale viene proiettato un asterismo di 6 stelle laser con un raggio di 45 arcosecondi dal centro e intorno nell'area qui che vedete in celeste è quella che viene chiamata campo tecnico, il technical field per i sensori NGS. In questa zona Maori dovrà trovare tre stelle naturali da utilizzare per le correzioni dei bassi e meglio ordini. Quindi nel loop MCAO diciamo a pieno regime opereranno sei stelle laser e se disponibili fino a tre stelle naturali. Andando a vedere un po' quella che è la struttura di Maori, qui vediamo in alto a sinistra ovviamente vedete il mouse, quella che è la Maori main structure che è recentemente stata completamente trasformata, questa è la versione corrente, all'interno della quale saranno contenute tutte le ottiche di Maori, i due deformabili, in quella che si chiama Postfocal Relay Optics. All'interno di questa struttura, in questa zona che ho cerchiato, c'è questo sistema che vedete qui in basso a destra, che è il sistema di sensori laser che è dotato di tutta una serie di motorizzazioni per il centraggio e la disposizione dei sensori correttamente rispetto alle stelle laser. La struttura che vedete qui a sinistra è quella che si chiama Torre di Mikado, che abbiamo diciamo normalmente, qui la vedete in alto a destra con tutti gli strumenti che poi ospiterà. In alto ci sono i sensori di fronte d'onda naturale, il BIM scende qui, per le osservazioni, scende qui perpetuicamente al centro di questo sistema, all'interno del quale, non è possibile vederlo in questa immagine, c'è tutto il sistema di Mikado e la camera di Mikado. Al di sotto di questa torre c'è una piattaforma corrotante che contiene tutta l'elettronica di Mikado, i sistemi di controllo sia per Mikado che per i sensori stelle naturali di Maori. Qui vedete il piatto che contiene le tre unità NGS di Maori, che dispongono, vediamo qui in basso a sinistra, dei specchietti di pick-off che vanno a selezionare intorno all'area di Mikado le stelle naturali. Fino a qualche tempo fa abbiamo lavorato al sistema di controllo dell'elettronica dei sensori laser, apportando un bel contributo. Poi siamo spostati sul work package della Calibration Unit e abbiamo dovuto lasciare questo lavoro. Per quanto riguarda invece la Calibration Unit, la collocazione dell'unità sarà sotto quello che vedete qui a destra cerchiato di bianco, questa slitta con binari rossi, che si chiama il SIEU selector, è una movimentazione che permette di selezionare il beam che proviene dalla Calibration Unit in Maori e viene poi iniettato all'interno della POSFO Carrier Optics, dove vedete il fascio verde, o al contrario lasciare passare il fascio proveniente dal telescopio, qui nell'area in alto marrone chiaro c'è la prefogastation, dove c'è il fogonasmid sostanzialmente, oppure selezionare questa gialla che è la Calibration Unit di Mercado. Il fascio ottico si propaga poi all'interno di Maori e viene inviato qui nella torre di Mercado, quindi per l'utilizzo di sensori naturali e Mercado stessa, mentre il fascio rosso che vedete qui è quella che viene chiamata la second port di Maori, perché è previsto un secondo strumento che sfrutterà la correzione attiva di Maori per una prossima generazione, qui nel volume blu che vedete qui a fianco all'amministraccio. Ok, riguardo la Calibration Unit, a cosa servirà? Servirà principalmente per fare tutta una serie di verifiche e test di funzionalità, verifiche sulla trasmissione del sistema ottico, sulla qualità, sulla presenza di vibrazioni, poi una serie di calibrazioni per i sensori a stella naturale, per esempio per l'issorzione del campo vista dai sensori NGS, i movimenti della pupilla, eccetera, la verifica di tutti gli algoritmi di calcolo del realtà in computer, le eventuali calibrazioni delle non common path aberrations tra Maori e Mercado, e insomma tutta una serie di caratterizzazioni e calibrazioni fino alla verifica della funzionalità del loop MCAO chiuso, quindi l'utilizzo contemporaneo di tutti i sensori LGS, NGS, dei deformabili e dell'RTC. Quindi per fare questo dovrà fornire una serie di sorgenti artificiali, sia NGS che LGS, da proiettare sul piano focale del telescopio e sui piani laser coniugati per le diverse altezze atmosferiche, attraverso un sistema ottico che come vedremo è abbastanza complesso. Vi ho parlato prima della test unit a carico del gruppo irlandese. Diciamo, inizialmente era previsto che la CU e la TU fossero due unità completamente distinte e indipendenti con funzionalità diverse. La calibration unit appunto, abbiamo visto, dovrà fornire calibrazione dei test di funzionalità al telescopio, quindi in CIL. Mentre la test unit è prevista l'utilizzo soltanto durante la fase di assembly integration verification, cioè in Italia, a Bologna, nell'integration hall per verificare effettivamente il raggiungimento delle performance prima della spedizione in Cilio. Comunque, questi due sistemi hanno delle... delle... come onaldis, hanno insomma dei requisiti molto simili. Entrambe devono disporre di un sistema ottico diciamo importante per proiettare le sorgenti sui piani... sui piani focali. Entrambe hanno dei requisiti sulla qualità ottica molto alti, specialmente per le sorgenti LGS. entrambi devono fornire delle maschere e di sorgenti. Quindi, diciamo, già da... dalla fine dell'anno scorso abbiamo cominciato a pensare alla possibilità di condividere un unico sistema ottico. Questo sia per ridurre i costi, per unire un po' le forze nel disegno di questo sistema e possibilmente anche di prevedere la possibilità di utilizzare la configurazione in test unit anche al telescopio che sarebbe un valore aggiunto. Questo però al costo di una maggiore complessità una difficoltà diciamo anche legata alla continua interazione con l'altro gruppo a definizione dell'interfaccia interna tra quella che è la configurazione in modalità CU e la configurazione in modalità test unit e anche tutte le attività durante l'IV che chiaramente prevedono l'uso del sistema che non potrà essere contemporaneamente a Teramo a Galway e a Bologna. Quindi, questi sono tutti aspetti che dovranno essere concordati ma sostanzialmente l'IV di questo sistema sarà fatto localmente a Teramo e poi portato a Bologna. Poi bisognerà concordare le modalità con cui procedere. Quindi, diciamo, questo tentativo ha portato allo sviluppo di due opzioni per il disegno ottico una semi riflettente catadriottica proposta dal team di Galway e un'opzione completamente rifrattiva proposta da noi dal gruppo di Teramo. Da febbraio ci sono stati tutta una serie di meeting contro discussioni per cercare di fare una completa analisi di trade-off e quindi scegliere tra questi due sistemi e attualmente non è stato scelto uno che adesso faccio vedere parto dall'opzione B che è quella che è stata sviluppata principalmente da Ivan durante il suo lavoro di tesi dottorato qui vediamo un disegno di questo sistema è composto da due rami un ramo per la proiezione delle sorgenti naturali NGS un ramo per la proiezione delle sorgenti LGS sostanzialmente ci sono delle maschere c'è la maschera NGS che attraverso un gruppo il BIM parte da questa maschera attraverso un gruppo di ottiche di una certa dimensione forma una pupilla che è condivisa dal ramo LGS che viene iniettato attraverso un BIM spitter nello stesso fascio perché c'è un altro gruppo di ottiche che invia il fascio verso l'ottica L1 che è quella di dimensioni più importanti circa 600 mm di diametro che poi corregge l'F number per il corrispondente F number del telescopio in cima qui c'è un folding mirror adesso vedremo meglio su altre immagini che permette di iniettare il fascio per piccolarmente diciamo all'immagine che vedete verso lo schermo questa opzione quindi è un'opzione completamente trasmissiva sono tutte ottiche trasmissive tutte ottiche sferiche questo semplifica molto diciamo anche la lavorazione di queste ottiche abbiamo ricevuto molti feedback positivi devo dire che sono stati molti quelli che anche sono complimentati per questo disegno quindi bravo anche Ivan e anche feedback positivi da alcuni costruttori perché benché sia un sistema abbastanza complesso tutto sommato diciamo la sua fattibilità non presenta problemi inoltre di facile montaggio accessibilità eccetera messo all'interno della main structure qui vedete il selettore il su selector questo binario rosso il folding mirror di cui vi parlavo prima che inietta diciamo perpendicolarmente diciamo il fascio all'interno della Maori post-focal delle optics mentre le maschere NGS e LGS sono poste qui in basso quindi questo sistema è diciamo L ha lo svantaggio se volete che sia abbastanza lungo quindi con un certo volume e di avere quest'ottica diciamo abbastanza lontana dall'altro asse perpendicolare quindi diciamo può presentare qualche difficoltà per l'allineamento di quell'ottica grande per la realizzazione di una struttura diciamo rigida che contenga tutte queste ottiche però diciamo è comunque un sistema valido un'alternativa ancora valida l'altro sistema quello proposto da da Galway è un sistema appunto cadadriottico e più complesso presenta anche delle ottiche dimensioni maggiore dovendo diciamo rispettare requisiti molto stretti sulla qualità ottica la dimensione la stessa qualità di questi di questi componenti sono aspetti critici di cui dobbiamo tener conto rimangono ancora dei punti da chiarire riguardo ai possibili effetti di ghosting e di luce polarizzata sono attualmente argomento di escursione ma in sostanza è l'opzione che è stata in qualche modo preferita perché è più compatta anche se pone dei problemi anche di accessibilità perché le maschere sono poste qui verso il basso adesso vorrò vedere sulla struttura che cosa vuol dire questo ecco vedete sulla struttura è chiaramente più compatta questa opzione vediamo meglio su quest'altra questo in verde è il volume che ci è stato assegnato per per sviluppare la calibration unit e vedete che l'accessibilità alle maschere si vede già da qui ma vedremo meglio poi nel disegno meccanico è molto limitata considerando che intorno alla calibration unit questa struttura sarà tutta diciamo ricoperta di pannelli per tenere per isolare termicamente tutte le ottiche della post-foga relay e quindi diciamo l'accessibilità è molto ridotta dall'altro lato diciamo dal lato di chi guarda invece c'è la pre-focal station e quindi anche da questo lato l'accesso è molto limitato quindi sostanzialmente si può accedere soltanto da sinistra e da destra per poter fare delle operazioni di maintenance o qualsiasi cosa altrimenti bisogna smontare tutto quindi con un sistema di di aggancio quindi sollevare tutto e tirar via dalla struttura all'intera unità per fare delle operazioni passando al disegno meccanico questo è stato sviluppato molto recentemente proprio negli ultimi giorni una volta abbiamo un po' consolidato gli aspetti del disegno ottico principalmente da Angelo e anche da Ivan qui vedete ci sono due opzioni per questo disegno meccanico una a tralicce aperti che vedete a sinistra che permette una migliore accessibilità ai componenti interni e un'altra che noi chiamiamo a treno sulla destra che utilizza delle superfici chiuse l'idea di irrigidire il sistema e anche risparmiare sulla massa cosa che poi però non risulta essere semplice qui abbiamo gli stessi disegni visti con le ottiche in semi trasparenza e questi comunque il disegno meccanico appoggia vedete qui su tre punti che sono i punti di interfaccia con la struttura meccanica sono tre punti cinematici e sono quelli su cui poi si scarica diciamo il peso e le sollecitazioni della della CU sulla sull'amministraccio qui vedete le stesse due opzioni con all'interno i fasci ottici proiettati e quindi che lo spazio a disposizione all'interno di questi di questo volume per poter collocare tutti quelli che sono poi i device le maschere tutto ciò che serve è veramente molto limitato questo diciamo pone non pochi problemi da poco Ivan ha iniziato a fare le prime analisi degli elementi finiti questo per capire quali sono se volete i punti deboli cioè i punti dove la struttura deve essere rinforzata vedete qui sulla sulla parte più alta essendo diciamo appunto ancorata in basso essendo una struttura abbastanza alta questa tende a oscillare a deformarsi quindi sono in questa simulazione sono 100 micron però diciamo stiamo aspettando una serie di di analisi sulla sulle tolleranze e comunque diciamo il lavoro procede per step graduali uno dei problemi principali se non attualmente il principale è che abbiamo a disposizione un budget di massa di circa 350 chili e attualmente non avendo ancora disegnato tutto ciò che poi andrà nella struttura abbiamo già superato i 400 questo utilizzando sostanzialmente acciaio che è lo stesso materiale utilizzato per il main bench quindi per evitare problemi con diversi coefficienti termici ma stiamo già pensando di utilizzare altri materiali l'alluminio è un problema perché è un CTE che è praticamente il doppio dell'acciaio stiamo pensando alla fibra di carbonio cosa abbastanza complessa ma una soluzione potrebbe essere utilizzare il titanio adesso diciamo stiamo documentando su queste contattando le aziende su questa possibilità dunque cosa dovrà fornire la calibration dovrà fornire una serie di sorgenti principalmente una griglia regolare di stelle artificiali in banda R che sono sing limited sostanzialmente una griglia di almeno 6 per sé con un gol di 11 per 11 un frammento distribuita nel campo tecnico dei lore con la possibilità di variare l'intensità delle sorgenti in un range che va tra 12 e 22 uniti mentre dovrà fornire anche almeno due asterismi di tre stelle di fraction limited in banda H che devono essere molto vicine una distanza interasse massima di 0,5 secondi alle stelle di banda R questo pone non pochi problemi come vedremo tra poco anche nella soddisfazione di questo requisito inoltre dovrà fornire una griglia di 3 per 3 sorgenti in banda H nel campo di Mikado e infine tre asterismi di 6 stelle laser poste a 45 arcosecondi dal centro dell'asse ottico per simulare le altezze rispettive altezze tra 90 e 150 chilometri ora in realtà la coniugazione 90 chilometri è in discussione perché pone delle difficoltà sul punto di vista della maggiore complessità sul disegno ottico e al momento diciamo questo requisito è stato ci hanno in qualche modo consentito di non considerarlo perché non è strettamente necessario e chiaramente queste queste stelle dovranno avere una banda che è quella dell'emissione di solio quindi 589 nanometri e dovremmo dovremmo prevedere anche di fornire asterismi di 8 lgs nel caso in cui il 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 fosse dato di 8 lanciatori una funzionalità molto importante sarà quella di utilizzare tutte le stelle nel capo emicato 3 ngs 3 coppie ngs per volta e 6 lgs contemporaneamente questo è il requisito che principalmente rende molto complesso e challenging vogliamo il disegno ottico della calibration abbiamo cominciato a disegnare le maschere qui vedete i cerchi colorati che definiscono sorgenti per promulgate le diverse altezze a ogni altezza corrisponde una rotazione di questo asterismo a sinistra uno sketch per 3 asterismi e 6 sorgenti e a destra per 8 sorgenti per realizzare questa maschera siamo partiti da un'opzione molto semplice quella di utilizzare una sorgente laser è un sistema ottico realizzato da noi per poter iniettare il BIM su un assembly di 25 fibre multimodali da 600 micro anti-core che vanno a illuminare dei diffusori sulla maschera qui la maschera vediamo di taglio diciamo a ogni fibra corrisponde davanti un diffusore questa è una tecnica che abbiamo già usato per Eris non presenta particolari difficoltà ma potrebbe presentare dei profili di trasmissione diffusori non perfettamente emogenei quindi per evitare questo un'altra possibilità è quella di usare una lightbox sostanzialmente un cilindro con una scatola all'interno ricoperta di spectralon in modo da uniformare l'illuminazione sui diffusori un'ultima possibilità è quella invece di posizionare una serie di led a banda stretta che emettono esattamente le frequenze di cui abbiamo bisogno e e questo migliorerebbe anche la availability del sistema che è un requisito non da poco visto il costo orario diciamo delle operazioni di maintenance sui LT quindi questa è una opzione diciamo tra quelle preferibili per quanto riguarda invece la maschera NGS siamo partiti dalla griglia richiesta sul campo di micado quindi utilizzando un pitch di 16.8 per secondi e questo ci ha permesso di definire una griglia su tutto il campo tecnico di 7x7 sorgenti a cui possiamo aggiungere altri gruppi per campionare completamente l'intero campo e alcune di queste possibilmente tutte vedete qui un ingrandimento a destra dovranno essere diciamo accoppiate con una stella di fraccioni in banda H vedete qui la separazione di mezzo arco secondo questa è una difficoltà diciamo importante che però abbiamo visto poter risolvere diciamo con particolari accorgimenti per sapere se avevamo bisogno di sfruttare tecnologie particolari quindi incollare fibre su una maschera per cercare di evitare di utilizzare delle tecniche che potessero presentare maggiore difficoltà è stato necessario fare un primo studio di questa maschera perché la maschera poi passando al disegno proposto da volwey doveva essere molto più piccola di quella che avevamo previsto nel nostro disegno quindi abbiamo cercato di utilizzare degli elementi commerciali standard proprio per evitare altre difficoltà questo però fa sì che nella maschera ci siano un enorme numero di fibre con una certa difficoltà di accesso la distanza di interasse tra questi connettori è dell'ordine di 16 a 7 mm quindi anche l'accessibilità è abbastanza ridotta con Angelo è stato possibile individuare un metodo per poter estrarre le fibre perché comunque bisogna prevedere la possibilità di poterle sostituire in caso di danneggiamento comunque le fibre sono abbastanza a rischio e quindi diciamo questo attualmente non presenta un problema per poter invece ottenere delle coppie molto strette di sorcenti in limite di banda R di fraccionimi in banda H abbiamo cercato di farci fare delle customizzazioni insomma verificare se è possibile fare delle customizzazioni da alcuni produttori come Torlabs che a catalogo ha delle ferrule su cui impiantano diciamo già delle fibre con core asimetri se volete con lo stesso core qui vedete un'immagine in alto a destra solitamente Torlabs però ci ha detto che non riesce a fare questa customizzazione che è una customizzazione diciamo molto particolare abbiamo bisogno di un pitch di 450 micron tra i due tra i due core ed inserire un core da 400 micron e un core da 9 micron single mode considerando il mode filter in banda H e questo richiede già una fibra speciale rispetto alle fibre commerciali comunque ci sono dei produttori che abbiamo visto riescono a fare questo tipo di customizzazioni quindi diciamo abbiamo individuato questa strada per risolvere questo questo problema riescono a fare delle ferrule in resine epossidica con un'ampia possibilità di dimensionamenti a quanto riguarda quello che è l'alimentazione di queste illuminazioni delle sorgenti dovremo utilizzare delle sorgenti broadband in modo da coprire l'intervallo tra RH e ne abbiamo già individuate alcune l'idea è quella di utilizzare un collimatore e poter dividere poi con un dicroico il fascio in due parti una parte per lunghezza di onda maggiore di un micron una parte per lunghezza di onde minori di un micron e abbiamo quindi che per le reference possiamo utilizzare un sistema quindi il ramo blu se volete un sistema di iniezione su un assembly di 61 fibre multimodali che poi andranno diciamo a illuminare le sorgenti sulla maschera mentre sul ramo delle sorgenti H di fraction limit possiamo utilizzare più beam splitter per ricavare più gruppi che andranno poi a formare le sorgenti di fraction limit sulla maschera per alcune di queste l'idea è quella di utilizzare lo stesso connettore la stessa ferrula in modo da avere le coppie molto strette alcuni stelismi di coppie molto strette questa soluzione è scalabile cioè si può aumentare facilmente il numero e le combinazioni diciamo di fibre e permette anche di introdurre dei filtri neutri motorizzati tra i collimatori e i beam splitter in modo da creare dei gruppi di sorgenti di cui si può selezionare la luminosità nel caso questo requisito fosse confermato qui vedete uno sketch della possibilità di poter dividere fisicamente il sistema la catena di trasmissione perché potrebbero esserci dei problemi nel caso delle fibre degli assembly e dei bundles di fibre sulla loro lunghezza per fibre lunghe potrebbero esserci problemi sulla fogal ratio degradation e quindi sulla uniformità di illuminazione della pupilla che abbiamo requisito abbastanza stretto e quindi abbiamo previsto di poter inserire la parte qui a destra direttamente in prossimità della maschera questo è un ulteriore problema perché vorrebbe dire mettere utilizzare aver bisogno di un certo volume all'interno di quello spazio che avete già visto essere abbastanza ristretto ma comunque abbiamo bisogno di fare la prototipazione per capire se può essere veramente un problema altrimenti se nel caso negativo che non fosse un problema potremmo mettere tutto il sistema all'interno del cabinet di controllo questo è un primo disegno ancora incompleto Ivan ha cominciato a lavorarci proprio negli ultimi giorni il primo segno CAD di una parte di questo sistema un'altra possibilità è quella di utilizzare delle sfere integratrici questo semplifica di molto la catena di trasmissione nel caso non fosse necessario creare dei gruppi di magnitudine diversa è possibile scalare aumentare il numero di fibre ma con la limitazione di illuminarle tutte insieme contemporaneamente è comunque un'opzione sul tavolo nel caso non fosse necessario dividere in gruppi le sorgenti sulle maschere qui di nuovo è la separazione tra quella che chiamiamo il siume in bench quindi il volume principale sulla main structure è il cabinet e di nuovo un primo CAD di questo sistema le sorgenti che abbiamo individuato sono quelle standard utilizzate già al BLT abbiamo utilizzato anche per Eris ne esistono di diverse potenze la caratteristica di queste che si chiamano laser driven light source è quella di fornire uno spettro sostanzialmente piatto su un range di lunghezza di onda molto ampio che va dai 400 nanometri a 2 micron e 2 nel caso non fossero sufficienti perché comunque il disegno catatriottico ha veramente un basso throughput rispetto a quello trasmissivo proposto da noi e anche perché poi con lo splitting sulle fibre si perde molto flusso comunque se fosse necessario potremmo usare delle lampade super continuum che hanno uno spettro molto frastagliato ma non è un problema e più che altro capire se sono strumenti adatti a lavorare diciamo nelle condizioni previste per gli ELT mentre le altre lampade sono stateggiate e state edificate da molti anni al Paranale per le lampade laser non ci sono problemi abbiamo una varietà di possibilità da cui attingere già sul mercato quindi abbiamo già investigato possibili candidati per quanto riguarda invece il sistema di controllo elettronico questo sarà completamente collocato all'interno di un cabinet un cabinet standard di quelli utilizzati nei progetti ESO dimensioni abbastanza importanti perché può essere alto fino a 2 metri e 2 pesare fino a 250 kg e all'interno del quale viene messo un sistema di controllo di raffreddamento un cabinet raffreddato al liquido proprio per evitare che ci siano problemi di dissipazione termica nei pressi dello strumento e una serie di power supply per motori e per lo stesso sistema di controllo e poi qui abbiamo previsto un rack con un sistema PLC e tutta una serie di I.O. analogico digitali per il controllo dei vari device una parte di questo cabinet verrà dedicato per collocare le sorgenti laser e le sorgenti broadband e infine un'altra zona dove verranno disposti le sferi integratrici i bian splitter i filtri neutri motorizzati insomma tutta la parte otto meccanica per l'alimentazione delle sorgenti delle maschere ecco questa è un'immagine della piattaforma NASMIT giusto per far vedere dove sono collocati i sistemi di controllo i cabinet di Maori il cabinet del Calibration Unit è sostanzialmente vicino al Calibration Unit però diciamo anche questa vicinanza non ci permette di avere un routing di cavi e fibre minore di 15 metri quindi questo è un problema sia per gli aspetti di controllo che per gli effetti di possibili effetti di focal ratio degradation sulle fibre quindi questo è il motivo per cui dobbiamo fare anche altri test dunque per concludere per quanto abbiamo visto sono state sviluppate varie azioni per il disegno ottico in particolare una da Terra e una da Goldway come avete visto sono stati stimati i volumi budget per entrambe le opzioni è iniziato il disegno meccanico dei vari sottosistemi i vari componenti della Calibration Unit sono stati fatti una serie di calcoli che insomma non vi ho mostrato soprattutto diciamo grazie a Mauro per il throughput complessivo quindi i requisiti sulla sulla catena di trasmissione e abbiamo già provveduto a fare un disegno preliminare di quelle che saranno le maschere della Calibration Unit abbiamo cominciato a contattare le aziende per delle possibili customizzazioni e soprattutto per la realizzazione delle ottiche principali quelle di grandi dimensioni e infine abbiamo iniziato anche sulla parte di controllo del sistema quello che dovremmo fare da qui alla PDR che è prevista appunto per inizio anno nuovo è velocemente adesso completare le analisi sulle toleranze che ci permettono di procedere col disegno prevedere i montaggi diciamo gli aggiustamenti necessari le ottiche ottimizzare il modello rispetto ai feedback dei costruttori dei produttori delle ottiche stesse e continuare a fare delle FEA statiche ma anche dinamiche perché ricordo che tutti gli strumenti in Cile devono hanno come requisito quello di dover superare terremoti di magnitudine almeno 7 essere immediatamente diciamo prevedere un recovery che non richieda più di un'ora mi sembra quindi insomma devono essere particolarmente robusti e poi procedere con le analisi termiche per capire se abbiamo bisogno o di quale materiale possiamo effettivamente utilizzare per procedere col disegno meccanico c'è da definire tutta la parte di interfaccia interna tra noi e Galway nel senso capire cosa loro intendono e come intendono inserire i loro device all'interno del volume della calibration unit e poi definire quelle che saranno le procedure di IV diciamo locali ma anche a Polonia quando verrà allestito montato l'intero sistema maori dobbiamo fare un po' di attività di prototipazione per verificare che la validità delle opzioni sulla catena di trasmissione e completare il disegno meccanico elettronico e soprattutto cominciare a produrre anche la documentazione che dovrà essere consegnata a ESO a gennaio bene da parte mia tutto vi ringrazio grazie a te Gianluca se ci sono domande penso che abbiamo tempo per abbiamo tempo Gianluca grazie io ti devo se ti vuole dire che mi è piaciuto molto il seminario ma purtroppo devo scappare sono alle 4 quindi sei stato anche nei tempi quindi confini anche per quello ti ringrazio grazie grazie scusate ciao 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 Gianluca se posso comincio io con una domanda che probabilmente ti fa a dire qualcosa che forse hai detto ma mi sono sfuggito in sostanza chi è che decide quale disegno ottico CO2 viene a passa sostanzialmente e poi l'altra cosa visto l'attuale situazione e tutto il delay che c'è stato per questioni legate al Covid 2025 tu l'hai iscritto da qualche parte ma chiaramente tutto cambia però oltre voi siccome è una subunità dell'ILT che probabilmente deve anticipare il resto non lo so parlo da ignorante quindi mi chiedo quali sono tempi i tempi vostri e soprattutto siccome è una questione sensibile per Teramo i luoghi e gli spazi ecco domanda ah bella domanda sono tre domande diciamo un po' complicati comunque chi decide il disegno ottico essendo diventando una questione non interna l'uomo è che ha un problema di sistema soprattutto per le interfacce con la main structure sostanzialmente è stato costituito un tavolo diciamo un gruppo di persone incappeggiate dal sistema engineer anche dal PI e dal project manager che hanno seguito diciamo il trade off tra queste due opzioni e le due opzioni ripeto sono state entrambe riconosciute e più quali l'opzione proposta a noi è ancora in ballo nel caso che non essero fuori delle criticità dalla prima però poi per questioni legate a struttura del main bench ai volumi alle masse alle interfacce così è stata preferita quella più compatta e chi lo ha deciso è stato deciso diciamo congiuntamente di fronte a tutte le analisi fatte anche se mancano ancora alcuni aspetti cruciali per capire se possono essere le criticità che non sono state avvicinate abbastanza nel caso queste venissero fuori siamo pronti a ottimizzare l'altro disegno il nostro disegno e eventualmente procedere con il test questa era la prima cosa poi mi chiesto maori è la prima luce di elti tempi e spazi sostanzialmente allora mi cado da sempre corre in solitaria diciamo così nel senso che la first life prevista formalmente dover essere fatta da entrambi gli studenti ma da sempre se volete il gruppo mi cado ha detto se nel caso in cui maori non sia pronto noi comunque facciamo la prima luce con il nostro scout con il loro sistema singolo coniugato allora questo è stato un argomento di lunghe discussioni però è anche vero che maori ha avuto almeno due stop importanti il progetto e due diciamo riassestamenti tra figure diciamo apicali gruppi afferenti eccetera ma soprattutto anche su aspetti di design infatti dall'ultimo anno a questa parte è stato un lungo stop che ha portato a produrre un disegno completamente diverso quindi il ritardo che maori ha accumulato sicuramente è stato maggiore di quello che ha applicato quindi il tentativo rimane comunque quello di arrivare in prima luce però diciamo al momento se volete c'è una bandierina gialla che diciamo si spera di recuperare sulle fasi successive perché per esempio la criminal phase review e poi la final design review che dovrebbe dare da anni sperando di recuperare lì e magari mica non è chiaro al momento sperabilmente sì 2025 però si peccata d'altra parte non si ha la consegna del telescopio quindi diciamo bisogna che coincidano diversi fattori 2025 non mi ricordo tu la terza che mi hai chiesto ah come faremo a costruire la calibration unit adesso Enzo è andato via comunque stiamo già muovendo per cercare di individuare degli spazi nuovi e per i nostri lavoratori sapete gli altri gli 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 Gelo scusa io ti sento male non so gli altri ma io ti sento male sì anch'io sì sì si 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 non va e interrompo la condivisione allora magari migliorano e interrompo la registrazione e un filmo